Sì, con l'amministrazione comunale, con l'intero consiglio comunale, con il sindaco della Versana abbiamo ritenuto di ricordare in modo solenne Dario Fo proprio perché il suo nome rappresenta molto per questa comunità, per cui non bastava una semplice iniziativa, magari una mattinata di convegni, occorreva andare nel cuore della rappresentanza dell'intera cittadinanza, cioè il consiglio comunale, anche alla luce del fatto che lui è cittadino onorario di questa comunità, per sottolineare i grandi meriti, non solo artistici, quelli l'hanno fatto bene i giornali, gli storici, gli studiosi, i critici a livello mondiale, ma per quanto ci riguardava dovevamo sottolineare il suo rapporto con Sant'Arpino e tutto ciò che ha significato in termini di apporti per questa comunità di crescita questo rapporto tra Dario Fo, Sant'Arpino e Pulcinellamente. Iorio, lei ha detto che Dario Fo era sostanzialmente grato anche a Sant'Arpino perché è stata una comunità che ha saputo accompagnare Dario Fo nel suo percorso artistico e di vita. Sì, l'ha saputo accompagnare perché, come dire, ci sono state delle occasioni, è venuto qui, ma non ci siamo fermati alla sua venuta, c'è stato un rapporto che è continuato nel tempo con scampi continui di opinione, di iniziative, di idee, di proposte e poi abbiamo, come nei momenti difficili, la scomparsa di Franca e oggi sua, abbiamo in qualche modo, ci siamo fermati come comunità a significarne la grande valenza, il grande cuore di Sant'Arpino, sa di aver perso molto con Dario Fo, ma sa anche di aver avuto molto da questo uomo e non abbiamo dato abbastanza e ci impegneremo a dare sempre di più perché Dario è l'opera di Dario mondiale, ma anche quella Sant'Arpinese, quella che è legata, continuerà, vivrà e noi ci impegniamo, soprattutto Pulcinellamente che da lui veramente ha avuto tanto, continuerà a portare avanti la rassegna nel nome di Dario Fo. L'ultima cosa, tra le tante proposte che ha lanciato, è anche una, intitolare il parco archeologico a Dario Fo. Sì, perché è una proposta in realtà, è nei fatti la cosa, a tutti quanti, tutte le forze politiche, anche in Consiglio Comunale, qualcuno, la consigliera Boeri ha ricordato il municipio di voler intestare a Dario Fo, il sindaco ha detto delle cose, insomma, però è nei fatti che di questa comunità, è scritto nei libri, è scritto nei discorsi, c'è l'intervento registrato di Bassolino quando appunto annunciò il finanziamento del grande ruolo che aveva avuto Dario Fo in questa vicenda, ecco è nei fatti che Dario Fo è legato al parco archeologico e dobbiamo secondo me formalizzare perché quello deve diventare il parco archeologico di Atella Dario Fo.